Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale una novità per quanto riguarda il marchio FIMI. Sì perché FIMI sta per lanciare un nuovo drone, un nuovo drone molto particolare per quanto riguarda il mondo FIMI. Ovviamente esistono già droni di questo tipo, però per FIMI è sicuramente una novità. E il drone di cui vi sto parlando è il FIMI Manta ad alla fissa. Un drone che ovviamente per FIMI è totalmente nuovo come concezione, ovviamente rimane un drone che però vola come un aereo. Avrà tre motori che gli permetteranno anche il decollo in verticale, quindi decollerà come un drone, ma poi ovviamente quando sarà in cielo sembrerà quasi più un aereo. Come abbiamo detto altri marchi già hanno prodotto droni di questo tipo, però per FIMI sicuramente una novità. Questo nuovo drone sarà in prevendita dal 31 luglio al 6 agosto e avrà un prezzo nella prevendita di 135 dollari. Vi lascio qua sotto i link dove potrete trovarlo quando si avvierà la prevendita. E come avete intuito dall'estetica il nome è preso dal pesce Manta che infatti lui ne ricalca totalmente l'aspetto. Questo drone sarà venduto in due versioni, tutte e due PNP, una meno completa che avrà solo ovviamente l'aereo, i motori, le eliche e i servo comandi che vanno ad inclinare i motori. Dopodiché ci sarà un'altra versione con delle stesse caratteristiche di quella che vi ho appena citato con l'aggiunta ovviamente di un fly control, di un GPS e di un ESC. In entrambe le versioni dovremo aggiungere un modulo di trasmissione video, è compatibile sia con la DJI Air Unit prima versione, è compatibile con la CAD Svista o è compatibile con l'ultima versione DJI Q3 Air Unit. Come batterie dovremo inserire delle 3S, potremmo usare le 18650 o potremmo andare a mettere sempre in 3S le 21700. Con le 21700 potremmo raggiungere gli 85 minuti di autonomia mentre con le 18650 potremmo arrivare ad avere circa 60 minuti di autonomia di volo, quindi veramente pazzesco per quanto riguarda il tempo di volo perché lui ovviamente fa un volo in cruise, quindi il volo è un volo molto tranquillo che però gli permette di volare davvero per tanti tanti minuti. Per quanto riguarda il peso, il suo peso pronto al volo è di 500 grammi, ovviamente le ali hanno uno sgancio rapido che gli permettono di essere smontate rapidamente per poi riporlo in uno zaino, in una borsa per il trasporto perché comunque con le ali montate rimane ingombrante, perché comunque ha un'apertura alare di 700 millimetri, quindi 70 centimetri di apertura alare. Dopodiché ci sarà la possibilità in seguito anche di installare se volessimo optional un gimbal, quindi non avere la telecamera fissa ma avere la telecamera mobile quindi stabilizzata meccanicamente, questa sarà una cosa aggiuntiva che uno potrà fare in seguito, mentre a livello firmware e software sarà compatibile con Ardupilot, quindi la possibilità di configurarlo con un software open search che ci permetterà di ottimizzare e di personalizzare le caratteristiche di volo di quello che è un drone ad ala fissa. Quindi ragazzi questo è tutto quello che so, queste sono tutte le immagini che sono riuscito a recuperare per portarvi questa novità per quanto riguarda questo nuovo drone molto particolare per quanto riguarda il mondo FIMI che ovviamente non aveva mai prodotto un drone di questo tipo, quindi staremo a vedere come sarà, quando sarà disponibile, come vi ho detto se volete preordinarlo ad un prezzo veramente top e lo potrete fare dal 31 luglio al 6 agosto ad un prezzo di 135 dollari che poi ovviamente aumenterà dopo perché questo è il prezzo di lancio. Quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questa novità, questo scoop riguardante il mondo FIMI per questo drone Manta ad ala fissa vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante lasciatevi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime, spoiler, curiosità, tantissime cose arrivano su Instagram vi invito a seguirmi sul mio profilo, sempre se va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale ovviamente anche di questo FIMI Manta, se avrò di coupon sconto li troverete sicuramente nel mio canale Telegram Offerte ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità ciao e al prossimo video!